Ragazzi, urgente, col culo e sveglio ho bisogno assoluto di parlare con qualcuno, ho appena fatto la prima scopata indietro mia, quella non è conosciuta su Tinder, ed è stata la cosa più terrificante, più propriosa, più ori da tutta la mia vita, mi fa il culiniero, piangere col culo e sveglio!